Il lockdown ha ridotto di un terzo gli incidenti, è quanto emerge dal report annuale della Polstrada di Roma. Il bilancio del 2020 è stato dunque influenzato dall'emergenza sanitaria che ha inevitabilmente modificato i flussi di mobilità dei cittadini su strade ed autostrade. In particolare rispetto allo stesso periodo del 2019 la polizia ha rilevato una diminuzione complessiva dei sinistri del 32%. Anche le vittime e gli incidenti mortali sono diminuiti rispettivamente del 4 e dell'8% rispetto all'anno precedente, mentre gli scontri con persone ferite sono calati del 33%. Sempre durante l'anno appena trascorso la Polstrada ha affermato 97.884 persone e contestato 63.583 infrazioni, di cui 4.298 per eccesso di velocità, ritirate 1.255 patenti e 3.908 carte di circolazione, mentre i punti decurtati sono stati 70.240. Gli agenti hanno controllato 6.201 conducenti con etilometro, multandone 271 per guida in stato di ebrezza. Infine i denunciati al volante sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono stati 44.